Brutto incidente nella mattinata del sabato 11 novembre, poco prima delle 11, sulla strada provinciale 222 nel comune rivarolese, all'altezza della curva del Bogo. Due vetture, un'Alfa Mito e una Ford Ecosport, si sono scontrate frontalmente. L'impatto assai violento ha fatto ribaltare l'utilitaria statunitense a bordo carreggiata. Intervenuti sul posto le ambulanze della croce rossa di Castellamonte e di Rivarolo Canavese, i carabinieri di Castellamonte. La strada, dalla rotonda di Rivarolo allo svincolo con il santuario della Madonna di Uzzegna, è stata chiusa al traffico per soccorrere gli infortunati e la messa in sicurezza delle vetture. Il bilancio è di tre persone ferite, due uomini e una donna, non in modo grave, che verranno trasportati in ospedale per accertamenti. La strada, dalla rotonda di Rivarolo, è stata chiusa all'altezza delle vetture. Grazie. Grazie.